Resident Evil 5 E eccoci qui ragazze e ragazzi, siamo sempre su Resident Evil 5 L'episodio scorso abbiamo superato l'impianto petrolifero configgendo orde e orde di zombie insomma e scappando anche perché erano troppi e Irwin è andato via in barca, quindi presumo ne siamo all'inseguimento qua, fatemi vedere un attimo che è un po' che non ci gioco quanti acquista, abbiamo 5000 ori, oro, quello che è tesori da vendere, non ne abbiamo ah sì, poi mi è stato detto che i tesori non si possono incastonare vi ringrazio ovviamente per la dritta ma 7, come avevo detto nel vlog, io 7 ne avevo già registrati ancora prima di pubblicarli quindi se non vi ho ringraziato prima è perché non potevo saperlo abbiamo con 5000 soldi, possiamo potenziare magari qualcosa tipo la capienza così ricarichiamo, io non l'avevo già potenziata la capienza di questo mi ricordo, forse è la pistola vabbè comunque potenziamo la capienza, così ricarichiamo l'arma, anche della pistola potenziamo la capienza così ricarichiamo l'arma, perfetto e poi altro, no, questo non posso potenziarlo, questo volendo sì ma la pistola non è così lenta magari quasi quasi è abbastanza soldi è la pistola di ricarica di questo no, la pistola di ricarica ah ecco, del fucile avevo potenziato al massimo ok no, aspetta va aspetta, no, aspetta, aspetta va bene, va bene così, dai, partiamo what happened to Irving Will, you can't have gone too far Josh thanks thank you thank you thank you later, we've got combat time on we've got you coming pure in barca oh, ahia aspetta, dov'è ah, quello è andato attenzione aspetta ok vabbè, questi sono merda, non riesco cavolo ah madonna eh, vabbè passiamo così ahia ok così qui un po' difficile no, ho preso lo zombie dai ok 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 facciamo saltare tutto stiamo già morendo aspetta un attimo madonna eh, qua c'è qualcosa gente grazie vabbè la diamo a lei che la userà subito ok oh no apparisci ok vai vuole in acqua aspetta anche così no se non schivi ok facciamo un bel diretto è morto non ho molti colpi eh non ho molti colpi ah pensavo che era abbastanza vicino ma invece ecco ok vai oltre colpi bene il gioco ci sta ricaricando qua bisogna aprire aspetta un attimo infatti ok aspetta eh qua arrivano lascialo avvicinare un po' ecco magari non così tanto ok qua ci sono ok si toh sei morto ok mi hai dato i colpi fucili da cecchino attenzione perché lancia guardalo eh l'ho presa al volo dopo aspetta ma non volevo usare ok un colpo e il fucile per quelli lì veniamo sulla barca ok possiamo partire guardalo ok eh l'ho preso vai l'ho preso ok ok aspetta aspetta e quello così ecco c'è un'altra tanica no no ahia porca vacca ah l'ho presa e vabbè andato il check point era qui no non è di cioè non è facilissimo mirare e non voglio neanche usare il cecchino mi sembra un po' uno spreco adesso riesco a prenderlo però mi trema tutto aiuto ok 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 così qua non ne vedo eh l'ho preso di lato praticamente ahia merda sapete cosa fare ha detto si aspetta questa la prendo io però eh ho visto una piantina rossa pieno munizione e pistola aspetta un attimo fammi vedere è scarichissima eh don't ah abbiamo un sacco di colpi fucile ok non non l'avevo visto mi ricordavo ricarica guarda ci stanno dando un sacco prendi tu un sacco di colpi B ecco se dov'è 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 donna ma dov'è no vabbè ma niente usiamo questo aspetta cavolo eh si un attimo che mi occupo ah eccolo no ok eh si dai visto che ne abbiamo tanti chi è dov'è ok aspetta ah eccolo la ok un attimo che tanto ho visto una piantina c'è di la non è la dinamite tu no oh ah quello ah ecco l'ho visto adesso vabbè vieni vieni no no perché è morto tu a te uso questo cogli ma dov'è sbucato questo ok eh cavolo tempo di cambiare l'arma ecco muori adesso ci curiamo un attimo facciamo così no allora che avevo messo il fucile qua ecco perfetto ah un altro ok 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 aspetta porca vacca arrivo arrivo Olè Posso? Posso andare avanti? Ok, ho visto una splendida piantina rossa qua Da, colpe doppietta Va bene Aspetta a tirare Perché Ah no, questa è roba sua E dammi Ecco Ecco Qui sto No, raccogli questo Ok Vai, si è preso i colpi Io l'avevo vista la piantina rossa Roba sua Eccola lì Eccola lì Allora In un attimo Perché? Perché queste iniziative Allora Scusa Ok, adesso ridammi le bombe, grazie Ok Perfetto Eh, prima guardiamo bene se Abbiamo preso tutto E poi facciamo quello che dobbiamo fare Mi sa che abbiamo preso tutto Eh Sì Ok Allora, qua mi sa che bisogna attirare Insieme Allora, l'avevo capito Ok Ok, mo' arriveranno Penso No Eh, infatti Cazzo, no, non riesco mai a prenderlo al volo Vabbè No Beh, questi hanno meno vita Mi sa Che muoiono subito Ah, ne è uscito un altro Di quello schifo Ok Morto Stanno arrivando Ok Io guardo Andrei Uno Spreco di colpi Ok Ok Salutiamolo Vamo a sparare Cioè, lui ha superato tutto questo Non penso Avrà fatto un'altra strada Irving Oh, c'è Oh, c'è F Aquano Cioè, lui Vanno Vanno Sì La St Cioè, di Lumistri Sì 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 What are you going to do about them? You're just one of Excella's playthings. It was your master. One more time. What are you going to do about them? All right. What do you do? This. Won't you two just die already? You're making me look bad. Who do you think got this entire operation off the ground? Research like this doesn't fault itself, you know. Yet everyone looks down on me. But not anymore. Don't do it! I'm Bobby on anything you could ever hope to become. Oh shit. Eh, la madonna. Eh, l'hai rifatto male il trucco. Cioè. Praticamente è diventato simile a del lago. Chris, status report. What the hell is that thing? Just get out of here, Josh. It's too dangerous. Aspetta, ehm. Ah. Usa, vale. Usa. Forse è meglio. No. Ah, è infinita. Non ha... Nessun riscaldamento. Ah, no. Sì, ce l'ha, ce l'ha. Ok. It's got... Lancia razza, lei. Aspetta. Ah. Cioè, un del lago potenziato è diventato. Qua è andato. Alle spalle. Ok. Aspetta, eh. Adesso sei di qua. Eh, però lei, se non glielo dico, sta di da... Eh. Dai qua. Aiuto. Adesso ce l'ho io il lanciarazzi. Eh. Aspetta. No. Aspetta. Preso, sì. Semperebbe di sì. No. 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 Non ho premuto in tempo. Messo. È andato. Eri qua, tu. Ok. Non ne dovrebbe più avere di tentacoli. Eh. A meno che no, si rigenera. Ok. 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 Qua non ce l'ha più la bolla, mi pare. Eh, ancora. Porca. Ero pronto con X. E mi ha detto A. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Vabbè. Qua. 2,6. Eh, porca. Aspetta. Ok. Eh, no. Ma questa è forte, ma è molto lenta. Aspetta. Aspetta, mi allontano? No. Dove va? Dove è andato? No. Piccolo bastardo. Eh, si fa vedere. Tiè. Aspetta, adesso dov'è? Ancora? Aspetta. Ah. Aspetta, aspetta. Ok. No. No. Una donna. No, va via. Madonna. No. Tell me what you're planning to do. Oh, damn, Excella! I guess I wasn't one of the good stuff. Excella? Where is this facility? Answer me. What is the Ouroboros project? You say yay. Wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the oil is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? Is it the Ouroboros project? Is that it? No one can stop it. Ouroboros is about to change everything we've ever come to know. Chris! Chris. See you're Chris. What's so funny? How do you know about me? Your answer's a way to head, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Dianne's not so bad. Ah, but it's not gonna change anything. You're still screwed. We've been dying here. Chris. Ah. in quella caverna è piuttosto generico c'è una caverna sola in Africa ok si mi ha fatto colpire un paio di volte ma perchè ho sbagliato il quick time event va bene ok allora ho consumato bene anche troppo però cosa c'è di nuovo ecco vedi M3 DOP questo mi sa che forse è meglio come fucile a pompa però non lo so perchè nel quarto c'era tipo la regola non scritta che le armi più vecchie come posso dire erano più forti di quelle più moderne diciamo tipo la Red 9 che era la pistola Mauser era si è potenziata più forte di una c'era la Black Tail mi pare che era quella forse di Ada che è una pistola moderna quindi io ho iniziato a potenziare l'Itaca io mi terrei l'Itaca anche lanciarazzi ci danno 10.000 è vero manganello eh dai lo prendo avevo detto che lo prendevo adesso lo prendo il manganello elettrico si lo do a Sheva così quando rimane senza colpi aspetta ecco almeno usa questo e va bene no io potenzia tipo anche questo S75 questo fucile qua diciamo è vecchio perchè la ricarica è manuale cioè devi caricare un colpo alla volta eccetera magari ne incontriamo un altro più moderno che sarà semi-automatico secondo me magari potenziato fa meno danno questa idea qui io mi terrei sempre queste armi ma faccio così potenziamo la ricarica costa solo 500 cioè la capienza 500 e ci ricarichiamo le armi e se non ricordo male questa pistola qua se la capienza hanno abbastanza soldi se la si potenziava al massimo forse arrivava a 100 colpi adesso non ho questo flash mi è venuto vediamo tesori purtroppo non ne ho e non ce ne ha dati va bene io mi riprendo ok il resto lo lascio a lei va bene ecco la caverna vabbè l'abbiamo trovata subito chiamare rinforzi dai speriamo sopravviva però ok non siamo messi bene fatto però ci ha ricaricato tipo la vice nel senso eravamo su morente adesso non siamo più su morente diciamo quindi tentativi di rigenerazione diciamo da parte di Sheva sono tutti attivi manca la chiave del motoscafo e se la portata dietro beh va bene sono pieno sono pieno questa volevo tenerla un attimo diamo le incendiarie a lei ok aspetta un attimo prima di usare la piantina magari c'è quella rossa qua avanti o più avanti non so è una caverna di indigeni ancora sti ma non usa il manganello lei cosa è porca vacca aspetta non mi hai preso facciamogli saltare prendi prendi i colpi roba tua aspetta qua morto si ah buttato la scala aspetta ok qua c'è qualcosa smeraldo smeraldo ok non mi vedo attenzione non sentivo sgambettare aiuto madonna quanti sono aiuto no non no no aia sono troppi no per forza madonna vieni porca vacca vacca eh ma usa lo sto manganello cioè se no lo prendo io eh no aiutami ci ha messo un po' eh a capirlo dove sei dove sei dove sei perché mi ha sciolato i polpi qui c'è qualcosa infatti aspetta ma qua siamo arrivati qui aspetta un attimo qua ci abbiamo ok ubino era zaffiro o zaffiro non mi ricordo apri dobbiamo andare di qua ma abbiamo lasciato qualcosa noi cioè da vedere aspetta torno un attimo indietro qui in basso aspetta eh scoppa è che non eh li sento sgambettare ecco eh si stan fermi aspetta ok maledizione beh non scendo io eh oh l'ho preso due volte beh scusa quanto sei resistente tu ah basta ok ah la musica ci ha messo un po' cosa sta facendo cosa sta facendo qua devo vedere ah basta ok c'è un solo dei oddio no non l'avevo visto ah in questo caso Sheva mi ha indicato una via bonus ok ok andiamo la prossima area ok ok urca cos'è la città sotterranea antica ah ma ci sarà mica il gioco degli specchi vedo un raggio di luce lì salvataggio ah ci ha ricaricato ah quindi al passaggio di ogni area lo stato di morente lo si perde ci si ricarica la vita no no non stava mentendo facciamo i pistola facciamo i mitra ok sono scavi anche questi po' c'è gente in un sacco apri apri scusa se lo sono dimenticati qui cioè quest'oro questo è un 100-200 non è che sia chissà che cosa vabbè sommati sanno forse mille un po' meno lì c'è un bel ragno smeraldo scusi ma mi da qualcosa no checkpoint dove va dove va c'erano due vasi ecco io prendo i vasi io prendo i vasi direi di sì salta giù c'è nient'altro no meno male la pentina l'ho tenuta io ah c'è un'altra pianta verde ancora sti indigeni aspetta va no ecco porca vacca eh no mi devo vero qua mi dovevo curare perché non ho il supporto eh vabbè check point intanto adesso ci curiamo io per risparmiare ok intanto però ne approfittiamo per insomma vendere sta roba aspetta eh no mecanizza era giusto vendi vendi tutto ok e così mi potenzio ancora penso alla capienza ci ricarichiamo io direi danni critici ok e 9000 adesso va a 4 di potenza ah già la potenza della pistola al massimo l'ho visto adesso e direi potenza del fucile ok va bene dai ci ci siamo ma anche povera sceva no la sua non l'ho potenziata ma direi che va bene anche così ok ok allora adesso aspettiamo che si può tagliare si la faccio così bomba e munizioni poi ci curiamo ok ok qua usiamo una bombettina aspetta così ok già che questi si rialzano subito sei ancora vivo tu morto ok piantina toh via lo scudo minizioni fucile pieno allora adesso le uso un attimo porca vacca nascondiamoci qui no fammi passare ah è morto ok aspetta ok ancora colpi mi dai tu aspetta tocca madonna le spalle si fa così qualcuno che mi lancia preso no sulle chiappe no eh si infatti no ma qua sono sparite le munizioni però e queste sono sue ma non ho posto che c'è qua ok aspetta eh pazio ecco erba no ce l'ho ce l'ho eh però non ho posto erba rossa mi serve venite guardali la guarda che si nascondono aspetta un attimo facciamo una cosa ecco ho sbagliato pure maledizione ho preso la colonna vabbè e niente combina usa cola ok maledizione dove è arrivato ok madonna oh ma sparisce ma madonna madonna pizze gà ah basta la musica è finita i colpi qua sono spariti e vabbè cavolo ho sprecato c'era già forse un mezzo spreco eh per loro però almeno avrei voluto centrarli ah qui non ah ma è arrivata dove è arrivata vabbè potevi arrivare prima scusa eh eh questo era già un po' più eh pieno ok ci nascondono i tesori nelle torce infatti anche qua guarda ma non ci arrivo ah no una uomini in un sarcofago forse questo posto era un cimitero a raccogli rubino ah più che un cimitero mi sembra una cittadella una sotterranea tipo quella che c'era in Assassin's Creed Revelation mi pare era il capo a doccia vediamo anche questo siamo diventati ah è vuota sono atterrato era una trappola maledetti siamo diventati predatori di tombe stavo dicendo ok ecco usalo sto manganello cioè non lo so ve l'ho dato per cosa ecco arrivo è morto ok e altri aborigeni lì no indigeni aborigeni sono quelli australiani oh no madonna chi è viavoli dove l'ha trovata la pianta no dai aia casino eh aspetta oh caracca no aiutami ok grazie mangia fuoco ecco bravo ora vivo ah ma lui forse è un po' più grosso si oddio aspetta mancato ok aspetta un attimo voglio andare di là siamo buoni allora eh si dai usiamo la raccogli cura ok ah una bomba ho trovato dammela dammi anche aspetta ma cosa c'è un bel rubino ok smeraldo ok e zaffero ok allora guarda vedo già eh ti vedo già eh te l'ho bucato lo scudo eh venga venga è timido ma non viene su aspetta eh ah guardali lì hai visto che i colpi ce li abbiamo usiamoli se no no uno fuori uno mi sta ancora in piedi scusa aspetta fuori due ah ecco si sono dati una svegliata ah eccolo lì quello con lo scudo rotto ma guardalo vai vai quei due si nascondono salve ok ok ecco vai giù questa qua è un'arena guarda là no aspetta preso secondo me qualcuno l'ho saltato però eh guardali 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 porca vacca sto mirando da una parte ovviamente dammi la piantina c'è poi ma sparisce ok morto basta forse ne ho fatti fuori munizioni magnum queste le voglio noi abbiamo nel deposito la magnum e sono spariti porca vacca aspetta munizioni magnum vediamo a lei qua ricarichiamo ok questi saranno tutti veri non è che nel senso non è che in qualche cosa l'è madonna c'è aspetta no no vabbè fin da qua cos'è sta roba gira cos'è successo abbiamo aperto la porta si ma ah eh vabbè però aspetta no no rifacciamo questo fa vedere vedi questi si distruggono però continuano ad arrivare e c'è un bel po' di roba dai devo lasciarla aspetta a me dà fastidio oh attenzione 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 al velo acqua è pieno ma siete radiocomandati non so puoi vedere ok questa è una bomba non c'è altro lì ok attenzione aia dai sceva vabbè lo sceva aspetta vabbè dai un attimo e niente dai usiamola usiamola ok qui c'è una bomba gira dai gira facciamo così guardiamo la porta corriamo ok ok ah dovevo farlo io ahhh ma poi eh a saperlo no non mi ricordavo più ovviamente io che li ho raccolti mentre c'erano le palle di fuoco vabbè vai ok mamma mia siamo sempre con non molta vita grazie a tutti